ciao da luci eccomi qui con un'altra recensione dei filati che troppo potete trovare nello shop un filo di passione come sapete ho questa nuova collaborazione con l'amico alessandro e ho voluto prendere altri filati per toccare con mano e quindi per potervi essere utile nel suggerirvi dei filati appunto di questo shop io prima di consigliarveli voglio comunque toccarli con mano e oggi ho qui per l'appunto un po di filatini che trovo tutti veramente molto belli ma adesso comunque uno a uno vi elencherò le caratteristiche e secondo me diciamo per che cosa li vedo più indicati ecco qui il primo filato che vado a presentarvi si chiama amico fancy è della mestrico filati ed è veramente un filatone come dico io perché guardate qua è proprio gigantesco allora questo secondo me per degli scaldacollo veramente l'ideale è soffice soffice non punge quindi molto morbido e veramente coloratissimo in questo caso allora io ce l'ho qui in due colorazioni vi faccio vedere anche questa a questa ho tolto l'etichetta perché stavo provando già un facendo un campioncino per una lavorazione vedete questo di un bellissimo blu comunque bellissimi toni del blu mentre questo è molto molto colorato adesso vediamo subito insieme che il gomitolo da 100 grammi è da 100 metri vi vi dico anche aspettate ferri uncinetto consigliati 8 9 ecco qui e la sua composizione è 50 per cento acrilico 50 per cento poliestere quindi comunque è un sintetico 100 per cento veramente molto morbido io generalmente per gli scaldacollo e per cappellini cose comunque che vengono a contatto con collo testa uso molto il sintetico uno perché scalda molto e due perché non ha il pizzichio della lana quindi io lo consiglio questo per appunto scaldacollo e cappelli veramente molto bello poi veramente questo questo filato è talmente grosso che veramente in un batter d'occhio avete fatto il vostro capo perché con una con uno spessore così è anche velocissima la lavorazione come seconda cosa io vi faccio vedere queste due bellissime ciniglie a me piacciono veramente molto 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 sto ancora sperimentando cosa farci perché la ciniglia come voi sapete è un po difficilina da lavorare nel senso che non si vede bene bene la la lavorazione la maglia quindi sto ancora sperimentando però vi posso dire che sono sofficissimi questi due gomitoloni guardate qua veramente dall'impressione sembra quasi spugna è veramente molto bello questo filato mi piace tantissimo allora questo filato è sempre della mistrico filati si chiama cucciolo ovviamente soft touch perché veramente morbidissimo intanto vi faccio vedere il più chiaro quindi metto da parte il rosa e allora questo qua ovviamente un 100 per cento microfibra è un gomitolo quindi questo gomitolo è molto grosso ma sono comunque 50 grammi per 85 metri sapete che la ciniglia è molto leggera quindi anche se è voluminosa ha poco peso ora volevo dirvi con cosa è indicata la lavorazione ma ce l'ho dentro 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 allora ferri uncinetto 6 6 e mezzo io vi dico già che secondo me 6 e 6 e mezzo per questo filato è veramente poco secondo me ci vuole anche un 7 8 però ripeto siccome devo ancora sperimentare la lavorazione con questa ciniglia non posso essere sicurissima dell'indicazione sull'uncinetto è molto bello guardate vi faccio vedere ecco prendo qui ecco qua ho trovato il guardate è veramente sofficiosissima è molto bella io poi ho queste due colorazioni volevo fare qualcosa per bimbi adesso piano piano sperimento e poi vediamo se riesco a fare qualcosina veramente di carino per bimbi ora un prodotto che non è della mistrico filati ma marchio alise e alise penso che non abbia bisogno di presentazioni perché veramente un marchio ottimo e questo nello specifico è alise superwash ed è un 75 per cento lana veramente molto bello la metratura come sempre hanno i gomitoli alise e infatti sono metrature importanti 100 grammi quindi questo gomitolo è da 100 grammi per 420 metri quindi comunque sono metrature importanti io se riesco a farvi vedere adesso dall'immaginetta vedete qui hanno fatto vedere ecco la lavorazione ai ferri per guanti e cappellini e qua dietro abbiamo una lavorazione per calza e vedete proprio la sfumatura la gradazione le gradazioni di colore non è proprio uno sfumato è un filato colorato molto 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 bello anche questo è bello soffice sembra un filato bello caldo risulta al tatto certamente un po più ruvidino delle microfibra però ci sta 75 per cento lana come sapete la lana non è mai liscissima ha sempre un po di insomma morbido sì ma la consistenza è diversa dal sintetico ecco io ci tengo sempre a precisarvi che la consistenza è totalmente diversa dal sintetico molto molto bello anche questo faccio vedere ora un altro alise questo è un alise real 40 veramente molto bello allora questo filato anche lo vedete gomitolone molto molto grosso e soffice è leggermente pelosetto vediamo se riesco a tirare su perché il capo l'ho trovato eccolo qua guardate ve lo metto qui vediamo se riesco a farvelo vedere da vicino così è leggermente pelosetto è ben ritorto sofficiosissimo veramente soffice veramente bello e questo appunto è un 60 per cento acrilico 40 per cento lana veramente molto bello anche questo 100 grammi 480 metri quindi comunque una metratura importante ecco con un gomitolo di questo uno scialle un battus vi viene fuori tranquillamente perché veramente una metratura importante è sofficissimo veramente bello di questo rosso poi veramente un bel rosso e anche questo io ve lo consiglio molto bellissimo anche questo filato questo devo dire che mi ha piacevolmente sorpresa questo si chiama denim quattro stagioni ed è dalla mistrico filati mi ha stupito molto la composizione di questo filato veramente bello è quasi interamente naturale perché la sua composizione è 59 per cento cotone 23 per cento lana e solo il 18 per cento di acrilico veramente bellissimo è soffice vedete si può intuire io peccato non possa farvi non ve li possa far toccare è veramente bello la colorazione stupenda con questo veramente io vorrei farci qualcosa di molto bello perché mi piace tantissimo questa colorazione e vi dico che ogni gomitolo da 50 grammi è da 115 metri questo veramente è stata una rivelazione l'avevo visto appunto sullo shop un filo di passione ed ero incuriosita quindi ho deciso di prenderlo per provarlo e mi ha stupita l'avevo visto bello ma non lo immaginavo anche così soffice e dal vivo è tutta un'altra cosa quindi anche le colorazioni risultano sempre molto falsate dalle registrazioni dalle foto che vedete sul sito è veramente molto bello nel caso vi interessasse questa è la colorazione 04 è veramente molto bello anche questo io ve lo consiglio ecco qui qualcosa che conoscerete di già perché è veramente un classico della mistrico filati è mon amour mon amour e io penso che per chi conosce la mistrico filati non ha bisogno di descrizioni perché veramente morbidissimo impalpabile liscio molto lucido come filato vedete veramente bello anche questo un 100 per cent microfibra questo io lo vedo indicato per maglioncini per cardigan anche per cose da bimbo volendo perché è veramente molto molto liscio e soffice di conseguenza anche ai bimbi non crea problemi di allergia pruriti non ha pelucchi che possono essere ingeriti insomma è un bel filato adatto anche ai bimbi allora questo filato da come uncinetto 4 4 e mezzo ferri uncinetto io secondo me il 4 già è sufficiente il gomitolo è da 50 grammi per 135 metri quindi come vedete ha una buona resa veramente bello io ce l'ho in questo bellissimo verde brillante molto bello e anche questo è un filato che io assolutamente vi consiglio per tutte le creazioni per i nostri bimbi c'è questo filato che è veramente liscissimo e morbidissimo sempre della mistrico filati e si chiama bebe micro color allora è un merino touch quindi al tatto molto simile alla lana merino ma è un 100 per cento microfibra quindi anche qua assolutamente allergico indicatissimo per le creazioni proprio per i nostri bimbi ogni gomitolo e voi direte piccolino questo gomitolo effettivamente da tenere in mano è veramente piccolissimo guardate questa è la mia mano e questo è il gomitolo ma la sorpresa c'è perché 50 grammi sono 212 metri quindi comunque è una metratura abbastanza importante io lo devo ancora testare quindi non so adesso io vi posso dire che l'uncinetto consigliato i ferri ed uncinetto sono dal 3 al 3 e mezzo ma io ancora non l'ho testato quindi non so dirvi se realmente vanno bene a vederlo così io direi che va bene anche un 2 e mezzo poi dipende dal tipo di lavorazione che volete insomma se volete un capo che abbia una lavorazione più ariosa o più compatta e quindi potete decidere poi dalla vostra mano e dal tipo di lavorazione che volete potete decidere con quale uncinetto o ferri lavorarlo io vi dico che sicuramente io lo lavorerò col 2 e mezzo 3 secondo me il 3 e mezzo è eccessivo per questo filato però dipende sempre dalla mano ecco io ho una mano piuttosto larga e quindi per non far rimanere buchi nella lavorazione preferisco diminuire l'uncinetto molto molto bello ha dentro questo è nello specifico è bianco con dentro vedete delle piccole sfumature di altri colori c'è il violetto c'è il giallino veramente è molto bello anche questo e dulcis in fundo io ho tenuto questo perché volevo finire col botto con gli sbrilluccichi come si dice allora e vi faccio vedere questi guardate che meraviglia guardate qua come luccica fantastico questo filato è meraviglioso e nonostante il luccichio non pizzica è fantastico allora vi tengo il più chiaro perché così allora questo è un marrone nonostante sembri nero è un marrone magari qua si riesce a intuire che vedete schiarisce e sembra quasi che arrivi ad un verdone scuro adesso so che dalla registrazione con la luce probabilmente non si vede bene il colore ma vi assicuro che parte dal marrone scurissimo e qua dove vedete più chiarino è un verdone scuro mentre questo è questo è un bellissimo blu un blu che schiarisce a tratti quindi comunque è comunque un blu scuro non è un celeste un azzurrino cioè proprio comunque è un bello scuretto ma ha una lucentezza pazzesca ecco questo qui ha il lame argento al suo interno mentre questo ha proprio il lame turchese quindi comunque tutto tono su tono questo bellissimo filato si chiama sortilege color sempre della mistrico filati e adesso vi dico anche la composizione allora un 70 per cento acrilico 24 per cento lana merinos e 6 per cento poliestere ovviamente 6 per cento di poliestere è il lame un gomitolo da 100 grammi è da 470 metri quindi anche questo una metratura importante direi che con uno o due di questi viene fuori già una bella stola o un bello scialle grande perché comunque la metratura è importante bellissimo questo anche questo l'avevo visto sul sito ero incuriosita e ho voluto proprio toccarlo con mano e veramente molto bello vi ho detto con che uncinetti si lavora credo di 3 3 e mezzo penso sì che effettivamente sia quello penso che anche io lo lavorerei con lo stesso numero consigliato dall'etichetta bene io vi ho fatto vedere tutti questi bellissimi filati che trovate appunto su su sullo shop un filo di passione eh l'amico alessandro eh è gentilissimo quindi se avete bisogno di ehm di chiarire dei dubbi dei consigli su che filati utilizzare per i vostri lavori sappiate che potete tranquillamente contattarlo eh via messenger su facebook eh e eh se avete bisogno potete anche contattare me e sarò sarò felicissima di darvi una mano appunto e a chiarire qualche qualche dubbio io vi do appuntamento al prossimo tutorial vi mando un bacione grande se volete ehm contattarmi mi trovate su messenger oppure sul gruppo facebook creando con luci io per ora vi saluto vi dico ciao ciao al prossimo tutorial ciao